Dai, dai che sono arrivati a noi a fare reward, dai, dai che sono arrivati a noi a ricompensare la stagione Sei casato, sei casato, sei casato, sei casato, sì, mi son spogliato perché ho troppo gai Vediamo sti ricompens- Sè No 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 Come si fa a lavorare così? Come si fa? L'unica cosa che li salva, lo sai cos'è? Cosa salva Psyonis? Che sono contenuti gratuiti Va bene, è fin quasi poter, va bene, ma te li danno gratis a fine stagione, anzi ti danno qualcosa No No, non funziona così perché uno ci stanno dando esperienze di gioco orribili Serve perché laggano, cosa che è Crash, il gioco ti fa Crash, ti esce dalla partita e ti banna pure Dice pure Shunz, capito? Tu stai facendo una partita, ti butta fuori e ti banna pure, non è che puoi rientrare in... No, ti banna, ti mette 5 minuti di 5, 10, 15 L'altra volta Daico era una partita al Gran Champion, boom, Crash, ciao Gran Champion, ciao, ciao, ciaone Per cosa, per cosa sono, cosa? Banner di merda, orribili, hanno pregambiato i colori Ah, ci vogliamo staccare dai colori normali così siamo più liberi Ti bloccava un colore, ti bloccava un colore Allora fare il diamante blu o il Champion, cosa è che il Champion ora è oro? Que cosa, che banner sono E poi, sì, ma ci sono anche le Goal Explosion, quelle che volevate due stagioni fa Sì, ma sono 3 per 7 rank, figlio mio Che cacchio vuol dire? E poi sono tutto, ma cosa vuol dire? Cosa? Sono 3, 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 7, allora, i rank sono 7 7 7, i rank sono 7 E le ricomente sono 3 C'è un errore di fondo, c'è, no? Giusto? C'è qualche cosa che non va E poi sono uguali, sono uguali Non è che hanno cambiato qualcosa Quale è voi? Quale è voi? Picchiatene una Non cambia niente quei colori Picchiatene una Ma tutto questo non serve un problema Se non ci fosse la questione Serve la questione Che sono bug da più di un mese Bug stupidi Che sono Ormai più di un mese che aspettiamo un fix E cosa? E poi loro cosa ti fanno? Fanno la roadmap Perché l'hanno fatta la roadmap Dico, cosa vogliamo mettere? Vogliamo mettere Prima ci partono bene il cross platform Tutte le piattaforme Dopo la fine dell'estate I preghi hanno messo Però arriverà Attenzione 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 Notizia fantastica Arriverà Copiamo Fortnite E mettiamo il battle pass Questa cosa vuol dire Che devi pagare ancora di più Per avere oggetti cosmetici Pensano a questo No, però lo studio Che si occupa del fattore estetico È diverso da quello che si occupa Del fattore server e gioco Sì, e che cazzo sta facendo Nel settore che si occupa del server? Non li migliorano i server Hanno scritto di nuovo Un mese fa Mezzo mese fa Tremi di settimana Stiamo lavorando i server Effettivamente c'erano problemi Dopo che Solo due anni Che gli stavano dicendo Ma ci sono problemi di server No, no, apri Ti le portai al mod Il problema è tuo No, testa Ci sono problemi Ora l'hanno capito Ci sono problemi Sì, ci stiamo cominciando a lavorare Giù tipo Hanno detto Che hanno visto tre problemi Tre Tre problemi di server Alle scatolette Dopo alle scatolette fisiche Adesso ci cominceranno a lavorare Cioè, hanno intenzione di lavorarci Però non si sa neanche quando Una cosa uno chiede per giocare bene I server sistemati Una cosa I server Sistemati È ridicolo E poi cosa ti mettono? Nel Battle Pass Il Battle Pass ti mettono Che cazzo mi mette? Ma che cosa mi mette? Il Battle Pass Che dobbiamo fare? Che dobbiamo fare? Che dobbiamo fare? Uno Cosa fai? Non fai altro che tranciare i piedi Dalle piccole organizzazioni Che cercano di aiutarti A far crescere il gioco Punto primo Punto secondo Ti stai dando la zappa Sui piedi più e più volte Ogni volta dico Oh, voglio tornare a giocare Voglio tornare a arrancare Dai, il gioco mi manca Boom Notizie da Psyonix Ti fa girare i coglioni E ancora persone che lo difendono Sì, ma le ricompense sono gratis Cosa tiramenti per un oggetto Per qualcosa che ti arriva gratis E non dovrebbe neanche arrivarti Punto primo No Perché loro mettevano l'ambito Di avere ricompense a fine stagione Punto secondo Ci volevano Dieci minuti in più Per fare delle goal explosion Personali Per ogni crank Non ci volevano niente in più Dieci minuti E bastava mettere un po' più diverse Mettevi il bronzo Che ne so Che a palla entra Ti esce una palluzza Di bronzo piccola E andavi ad aumentare Più fino Al gran semplice Una cosa enorme Ti esplodava tutta la porta Era una minchiata Giusto Ma già dieci minuti Ci volevano in più a farlo E già differenziavi per ogni rank E cosa ti metti il diamante Col champion Nel gran champion Ma cosa metti i rank insieme Ma sei cretino Il pane ti disteva tutto Ma cosa Ma che vuol dire A questo punto spero Che qualche altra ep Si piglia A roga E tessera A gestisciare Perché psionics Non sarà fila Anche ora L'era le CS Voglio riprendere i biglietti Col cacchio Ti faccio prendere i biglietti Meno di un mese prima Ti mettiamo i biglietti online E ti diciamo Dove è la location Vogliono ancora più soldi Sono ridicoli Ma mi saprei tu che ne pensi Perché per me è uno sfogo Ma sono veramente Se cerchi psionics Su internet Ti spuntacano ridicoli Da Lauridis Quindi Ciao 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 ciao